Il dono così prezioso che è la nostra imbarcazione in miniatura, il famoso Don Giovanni. Allora, siccome io sono ignorante in materia, voi da dove venite? Noi veniamo da molto lontano, da Salerno, dal posto di Salerno. Abbiamo scavalcato i monti per arrivare qui a Salerno. E' male per aver scavalcato i monti e non siete venuti per barca. E' anche affungavamo nella nostra barcazione, però gli amici calabresi già hanno mangiato questo dono, fatto a mano, quindi è ancora più prezioso, la dedica agli amici del Don Giovanni. Sì, bellissimo. Da parte del nostro fluvio, che poi vedremo anche dopo, sentiremo, ascolteremo, perché è un noto canta solo. Benissimo. Oltre a costruire questi modelli, è bravo, è anche una bellissima voce, è anche una grande memoria, perché si è oltre a sapere suonare. Com'è andata la regata? Noi, questa è l'unica parte che ha tagliato il traguardo del fluvio. E' andata bene, è andata bene. E' il Don Giovanni, con la rosa rossa, e all'omaggio a tutte le donne. Il Don Giovanni, ovviamente. Anche se si chiama Don Giovanni. Esatto, si chiama Don Giovanni perché... Il grande è il suo dottor. Non sono... Grazie. Grazie.